un benvenuto a tutti da meteo groano giornata calda soprattutto la prima parte della mattinata e anche del pomeriggio ma poi una bella rinfrescata con i temporali un po sparsi che ci sono stati un po per tutta la regione anche il nostro territorio macchia di lopardo ne è stato colpito guardiamo allora i valori rilevati al valori delle temperature minime a bollate abbiamo avuto un 22 cesate 22 9 e ceriano aghetto 19 1 minime che però potrebbero essere ancora in calo dato che sono ancora le 10 di sera e alla mezzanotte potrebbero ancora calare vista l'aria più fresca che è entrata le massime 32 2 bollate 31 8 cesate 31 3 cerano aghetto vedete ancora un pochino alte per il pericolo andiamo a vedere i millimetri vedete come sono un po sparsi in tutta la lombardia colpita più la zona centro centrale della lombardia cesate e caduto un millimetro a bollate 0 5 cerano aghetto sfiorata andiamo a vedere allora le immagini del satellite ecco la perturbazione che si addossa le alpi l'ha ha portato parecchi temporali e ne porta appunto qualcuno anche verso la pianura si sposta verso levante ecco a suo seguito aria più fresca invaderà la nostra regione e poi anche tutto il resto d'italia portando questa rinfrescata che era e ci voleva andiamo a vedere infatti alla sera del 16 di agosto vedete come le alpi si sono rinfrescate pian pianino si sta rinfrescando anche la pianura ancora calde le zone centro meridionali che fra un giorno o due anche loro vedranno un po di rinfrescata anche la spagna vedete come c'è in ritirata il cambio verso sud le precipitazioni ecco relegate al nord est italiano andiamo a vedere il reading il modello di reading eccola qua vedete la curvatura con la perturbazione è passata da domani scivolerà un po più verso l'adriatico e un po più verso le regioni centro meridionali e il tempo si manterrà diciamo così abbastanza fresco almeno fino a venerdì andiamo a vedere la carta suono prevista per domani e la perturbazione che scende verso l'adriatico si ristabilisce un po l'alta pressione anche se non molto elevata ma l'aria fredda a seguito della perturbazione porterà le temperature le conterrà nella norma del periodo andiamo a vedere le previsioni domani 17 di agosto martedì cielo abbastanza buono qualche numero nel pomeriggio 19 30 mercoledì 18 anche qui qualche nuvole in più 17 29 e lo stesso giovedì 19 30 bene vi ringrazio dell'ascolto vi auguro un sereno martedì 17 agosto ci risentiamo al collettivo di domani da Matteo Corale un arrivederci a tutti